più il movimento 5 stelle sostiene il governo guidato da mario draghi più è reale la possibilità che i grillini spariscano lo sa bene giuseppe conte che da neo leader in pectore ha già pensato a una contromossa per far cadere l'esecutivo si tratta di quella che il tempo chiama una strategia renziana in cosa consiste presto detto lasciare il governo draghi possibilmente dopo il 3 agosto una mossa che potrebbe consentirgli una rendita di posizione all'opposizione sul modello di quella che sta favorendo fratelli d'italia non a caso è l'ultimo sondaggio di ipsos giorgia meloni si piazza addirittura davanti alla lega troppi infatti nodi che l'ex avvocato del popolo non che ex premier deve risolvere in primis la riforma della giustizia su cui sta lavorando la ministra marta cartabia pronta a cancellare le leggi del grillino alfonso bonafede su questo punto nonostante il fronte più che unito nel centro destra conte è pronto a fare la guerra e se non dovesse bastare nel cassetto ha già due armi con cui sfidare draghi si tratta di due dossier il primo è la fine del blocco dei licenziamenti che è osteggiata dai 5 stelle così come dalla componente di sinistra della maggioranza che regge attuale esecutivo l'altro invece è quello sull'ambiente che proprio per il m5s è stato uno dei pochi motivi per entrare nel governo draghi nel nome di quella che doveva essere una transizione ecologica rivelatasi invece un flop per non parlare poi del ridimensionamento dei sussidi cavallo di battaglia su cui si basa il movimento del fisco i pentastellati vogliono passare dagli attuali cinque scaglioni irpe fa tre ma dovranno vedersela con un governo con una chiara trazione di centro destra insomma tutte difficoltà che conte farebbe meglio a eliminare l'abbiamo 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 l'abbiamo